buongiorno e benvenuti nel mio canale questo è un tutorial che riguarda le persone che posseggono un sito web o che hanno in animo di crearlo e vi mostrerà come inserire in uno sito web in una pagina di questo sito web come incorporare dei documenti dei video o anche degli audio naturalmente non può pensare che per incorporare i video uno li può tranquillamente postare su youtube e poi incorporarli con il codice che offre lo stesso youtube se uno non volesse utilizzare il player di youtube volesse utilizzare player creato da lui stesso eventualmente non possa per varie ragioni caricare questo video questi audio su youtube vediamo come risolvere vediamo anche come risolvere per inserire in una pagina web dei documenti innanzitutto per vedere che se funziona questo sistema utilizzerò questo strumento che si chiama realtime html editor nel senso che qui in alto si inserisce un codice html e qui in basso si vede il risultato cioè questo qui praticamente è la traduzione che fa il browser in una pagina web si inseriscono dei tag in un linguaggio html e il browser lo trasforma in una immagine o in un testo o in un video o in un audio faccio vedere un esempio per esempio questo è imjar dove si possono caricare immagini e video prendiamo per esempio questa immagine ci si clicca sopra ci vado sopra con il testo del mouse e vado su copia l'indirizzo dell'immagine a questo punto io vado sul editor html e inserisco il tag per visualizzare l'immagine che semplicissimo è minore immagine sorgente uguale si mette ctr lv per incollare l'indirizzo dell'immagine si mettono le due virgolette poi si mette la slash e si mette il maggiore ecco qui in basso l'immagine vedete immagine questo è se io incollo questo codice in una pagina web ecco che il risultato cioè viene mostrata l'immagine che io ho appunto di cui io ho copiato l'indirizzo naturalmente posso anche modificare la dimensione per il uguale virgolette 300 più se virgolette ed ecco che queste immagini è una dimensione di una larghezza di 300 naturalmente posso inserire anche l'altezza detto questo ho fatto vedere questo perché devo stare come funziona appunto questo editor quindi qui in alto si inserisce il codice da mettere nella pagina web e qui in basso si vede appunto quello che mostrerà il browser nel momento in cui rileverà questo codice detto questo vediamo adesso come mostrare in una pagina web dei documenti si può utilizzare one drive che è un servizio gratuito della microsoft naturalmente si accede a one drive basta digitare one drive come si fa a mostrare un documento su in una pagina web deve essere caricato su one drive si sceglie una cartella che sia condivisa se non fosse condivisa la condividiamo la cartella pubblica eventualmente si va qua su questo iconcina chiunque abbia collegamento può modificare quindi che sia condivisa si può anche cliccarci sopra e naturalmente condividi collegamento con tutti e quindi ok si può andare su applica questo però non ci interessa si apre quindi la cartella pubblica e qui in questa cartella appunto chi è condivisa quindi tutti possono accedervi carichiamo i nostri file nel nostro caso carichiamo appunto un file di un pdf e un file word li selezioniamo entrambi possiamo anche spostarli così direttamente nella pagina di one drive ecco fatto sono stati caricati e a questo punto come si fa a incorporarli basta semplicemente selezionarli lo seleziono cliccando qua su questo cerchetto in alto a destra dopo averlo selezionato vedete qua ci sono tutte le opzioni interessa l'opzione incorpora ci clicco sopra e si va poi su genera per generare il codice con cui incorporare questo file nel nella pagina web cioè su genera questo è il codice da incorporare ci si tocca sopra quel sinistro del mouse destro del mouse si va su copia e si copia questo codice se io vado adesso su l'editor in tempo reale incollo questo codice si visualiserà appunto questo documento ecco fa questo documento naturalmente vedete le dimensioni che possono modificare per 476 di larghezza facciamo 640 e di altezza facciamo 960 ecco fatto ecco che questo è il documento questo pdf vedete chiunque poi aprirà questa pagina web potrà anche scorrere tutto il pdf tutte le pagine del pdf un discorso analogo vale per il file doc io lo seleziono questo lo deselezione seleziono questo file doc vado quindi su incorpora in questo caso vado sempre su genera copio il codice hdml e lo incollo su realtà io lo incollo su realtime ma chiaramente lo incolla sulla propria pagina web si tratta di un codice di un iframe eccolo qua anche in questo caso io posso modificare la dimensione mettiamo come prima 640 naturalmente questo dipende dalla larghezza della pagina web vostra e quindi dovete adattarla alla larghezza al layout della vostra pagina web questo vedete sono prima pagina questa è la seconda pagina solamente se ne avesse più pagine si potrebbe anche visualizzare anche le altre pagine e questo è quanto riguarda i file di documenti ma vediamo come pubblicare sul web anche file di ovviamente file di immagini avete già visto semplicissimo ma file di video e di audio per i file di video andiamo su sempre su imger andiamo nella home page di imger si trascina un video nella home page di imger naturalmente lo possiamo fare sia da logati io per esempio sono logato per il mio account ma anche da non logati cioè da senza registrazione trascina un video per esempio io trascino questo video questo video che è in mp4 trascino questo video che si chiama donna sul mare trascino qua è un video mp4 a questo punto io posso scegliere se riprodurre anche l'audio oppure no in questo caso l'audio non c'è probabilmente quindi non me l'ha neppure chiesto questo è il video vedete è stato caricato lo posso mettere in pausa come si fa a pubblicare questo video in una pagina web semplicemente bisogna trovarne il link diretto quindi si clicca sopra il testo del mouse e si va su copia indirizzo del video a questo punto dobbiamo utilizzare i tag dell'html5 sono questi questo è il tag dell'html5 vedete video controls eccetera eccetera e qui si incolla l'indirizzo del video in formato mp4 ma poteva essere anche in altro formato in questo caso l'ho già incollato sotto ma lo cambio questo url cioè l'indirizzo del video questo mouse ctrlv e io copio questo codice html5 e lo incollo in real time cancello quello precedente cancello questo incollo questo ctrlv e questo vedete è il video io lo posso anche far andare il video poi quelli che lo vedranno potranno anche scaricare vedete qui c'è un menu posso andare su scarica posso cambiare la possibilità di rivoluzione posso andare su un picture in picture per vedere un video sul video vedete qui in basso lavorerete già visto probabilmente su youtube questo è il video in html5 che si ottiene semplicemente incollando questa questo codice in cui ho soltanto modificato l'indirizzo del video naturalmente io posso modificare anche le dimensioni per cento e 800 per 450 posso raddoppiare per fare 1600 1600 per 900 ecco fatto vedete il risultato non cambia naturalmente bisogna mantenere le stesse dimensioni perché se io metto qui per esempio 800 cosa succede succede che chiaramente vedete va un po fuori fase non si vede perfetto se mettessi per 600 si vede ancora peggio rispetto al player è sfasato rispetto a che bisogna mantenere stesso rapporto di dimensioni del video stesso cioè questo caso è un 16 noni quindi 1600 900 va bene come si va a caricare gli audio in una pagina web questo è complicato perché non ci sono servizi affidabili che permettono di caricare di audio e di averne il link diretto però possiamo trasformare un audio in un video possiamo fare per esempio con shot cut apriamo shot cut andiamo su elenco riproduzione qui trasciniamo sia l'audio questo per esempio sia anche una qualsiasi immagine proprio questa che sarà quello che si vede durante la riproduzione dell'audio si trascina l'immagine nella timeline poi si va sul menu della timeline e si va su traccia operazioni aggiungi traccia audio e la traccia audio qui sotto si trascina l'audio ecco l'audio che viene trascinato lo mettiamo all'inizio solamente come vedete l'immagine è più corta però l'immagine essendo fissa possiamo aumentare come ci pare e la facciamo pareggiare con la lunghezza dell'audio possiamo adesso riprodurre video e audio naturalmente ci sarà un immagine fissa con il sottofondo dell'audio esportiamo questo che da audio diventato video lo andiamo su esporta ci vediamo predefinito andiamo su esporta file chiamiamolo audio con immagine studiamo la calzata destinazione andiamo su salva e come vedete qui in alto a destra ci sarà l'esportazione dell'audio naturalmente io potevo anche applicare un filtro per esempio qua lo selezionavo andavo su filtri e applicavo per esempio un guadagno volume in audio guadagno volume per eventualmente modificare volume magari diminuito perché mi sembrava un po troppo elevato vedete in questo caso vedete qui si va sul rosso quindi dovevo fare così ma ormai non l'ho fatto e quindi mi sta bene in questa maniera adesso vede è stato esportato come si fa a quindi a pubblicare questo audio in una pagina web andiamo sempre su in google torniamo nella home page e trasciniamo questo video che è un audio però con un'immagine su in google abbiamo detto audio con immagine lo trasciniamo verrà caricato questo caso io devo dire yes keep the audio cioè carica anche l'audio adesso ha caricato sia il video che è formato una fuori immagine e l'audio ecco fatto lo posso fare anche andare per mostrare questo audio diciamo per riprodurre questo audio una pagina web cc cosa faccio dietro il mouse vado su copia l'indirizzo del video se io adesso lo incollo una pagina web vedrò questa immagine con l'audio che si riproduce dietro il mouse incolla e vai ma a me questo indirizzo mi serve per il mio html5 lo sostituisco in sorgente qua a quello precedente ctrlv copio tutto il codice html5 vado su copia vado su realtime per mostrare appunto come funziona il caricamento di un audio di trlv ed ecco questo audio che è stato caricato però ci avrà una immagine di sottofondo anche quest'audio come vedete può stare se scaricato andando qua su scarica oppure andando qua sul piccolo in piccolo ci sono anche varie altre possibilità con con il codice html5 faccio vedere alcune sono molto interessanti per esempio si può centrare si inserisce questo tag all'inizio div align center qui prima di questo ctrlv poi si alla fine si mette la chiusura del tag div ed ecco qua che il video viene centrato nella pagina altra cosa che si può fare è impedire il download per esempio adesso come vedete c'è la possibilità di scaricare il video se si vuole impedire che venga scaricato si mette questo tag contro list no download dopo contro qui video contro ctrlv e adesso qua se io vado sul menu come vedete non ci sarà più la possibilità di scaricare il video altra opzione è di mettere l'auto play io per esempio posso aggiungere auto play qui al tag per andare avanti il video all'infinito metto qua auto play incollo questo va poi in loop di continuo all'infinito naturalmente è un po uggioso per chi apre la pagina con auto play però fatto vedere che si può fare anche questo si può anche nascondere tutto si mette div style visibility id all'inizio questo modo questo caso non succede niente non si vede più nulla chiaramente se io tolgo questo ecco che si vede e si può naturalmente bloccare sono tutte cose che magari a uno che a cui piace il web che vuole direttarsi con la pubblicazione di video audio documenti sulle pagine web può utilizzare queste informazioni che vi ho appena dato probabilmente non interesseranno a tutti coloro che sono iscritti al mio canale ma comunque è una cosa che avevo intenzione di fare che ho fatto alla prossima volta grazie a tutti